Cari amici, la sinistra ci ricasca. Dopo aver difeso a spada tratta Mimmo Lucano, il sindaco di Riace che favoriva l'immigrazione con metodi illeciti, secondo la procura naturalmente innocente fino a prova contraria, dopo aver salvato a tutti i costi Mimmo Lucano, questa volta la sinistra scatta in piedi come un solo uomo per difendere la nave Aquarius, una nave delle ONG. Che cosa ha fatto la nave Aquarius? Ha scaricato vestiti infetti e altri rifiuti tossici illegalmente nei nostri porti. Ma ecco che sui giornali, nei giornaloni della sinistra, leggiamo dei commenti in cui si dice che vabbè, in fondo non erano poi così tanti i vestiti infetti, vabbè dai la camorra che muove camion e camion di rifiuti tossici davanti a una quantità così esigua si sarebbe messa a ridere. Insomma, è ormai chiara una cosa, che se si tratta di salvare l'immigrazione, anche nei suoi aspetti più deleteri come questi che abbiamo citato, si può infrangere la legge. È possibile infrangere la legge, la sinistra anzi si schiera volentieri contro le procure che normalmente invece guarda con adorazione. Brutta cosa.